La scuola è proprio come un cantiere in opera dove tutti lavorano e ci mettono del proprio. I ragazzi sentono questo clima di unità e di corresponsabilità fra gli adulti. Si terranno giovedì alle 15.30 a Lecco, in Basilica di San Nicolò, ai funerali di Bianca, Brambilla, Sala, cittadina a benemerita, scomparsa alle tali 69 anni. Insegnante di lettere nel 1983 aveva fondato, insieme a un gruppo di docenti e genitori, la scuola paritaria di ispirazione cattolica Massimiliano Colbe, della quale era stata a lungo preside. Da quell'esperienza è nato il polo educativo Lecco fa scuola, gestito dalla cooperativa La Nuova Scuola. La sua vita, si legge in una nota del CDA della cooperativa, è stata caratterizzata da un intelligente e appassionato impegno nel mondo dell'educazione. Siamo grati a Bianca per aver testimoniato a noi e alla città intera la bellezza dello spendersi per il bene comune. Per il suo impegno il comune di Lecco nel 2016 le aveva conferito la civica benemerenza a San Nicolò d'Oro. I ricordi più belli sono tutte le ore date ai ragazzi. Il tempo è passato in presidenza a dialogare con loro, a incoraggiarli, a sostenerli, a lanciarli, a motivarli allo studio.